Era solo questione di tempo prima che la notizia arrivasse. Dopo vari falsi allarmi arriva il primo contagio da coronavirus di un cittadino agropolese. Ad essere contagiata è una donna 57enne insegnante del liceo scientifico Alfonso Gatto. L'annuncio è arrivato nella serata di ieri da parte della protezione civile della regione Campania che fra gli 80 tamponi analizzati nella giornata di ieri all'ospedale Cotugno di Napoli ne ha comunicati sei positivi, fra cui quello della donna agropolese. L'insegnante con ogni probabilità ha contratto il virus mentre si trovava nel weekend di carnevale a Parma da un familiare e una volta rientrata ad Agropoli si è sottoposta all'auto quarantena, non frequentando luoghi affollati e non rientrando nemmeno in servizio presso il liceo Gatto, visti i sintomi febbrili e di malessere chi accusava. Poi è arrivata la decisione di recarsi al San Luca di Vallo della Lucania, dove è stata trattata nella tenda pre-triage antistante al pronto soccorso e messa in isolamento, dopo i risultati del tampone effettuato nella mattinata di ieri, nella notte è stata trasportata con un'ambulanza specializzata dal nosocomio vallese al Cotugno di Napoli, dove seguirà le terapie di cura per il virus, anche se non risulta in gravi condizioni. Intanto ad Agropoli arrivano i primi provvedimenti d'emergenza presi dal sindaco Damocopola. Il liceo Alfonso Gatto resterà chiuso oggi e domani, mentre sono state firmate ordinanze di quarantena per circa una dozzina di persone che sono state a contatto con la donna, secondo caso nel Cilento e sale la preoccupazione fra i cittadini.